Buongiorno a tutti, andiamo a vedere i componenti del tavolo dedicato ai collettori per impianti idrosanitario serie 359. La gamma di collettori si compone principalmente di tre famiglie. Prima di tutto abbiamo un collettore con intercettazioni singole. In questo modo si ottiene una distribuzione in tutto l'impianto ben bilanciata, una rapida disponibilità di calda sanitaria e una facile installazione e manutenzione. Infatti il collettore è già preassemblato all'interno di una cassetta. È possibile poi andare anche a comporre i collettori attraverso degli adattatori e delle staffe per andare a formare più derivazioni. L'installazione viene completata attraverso un portello push to open, quindi sarà piastrellato, oppure attraverso delle placche di finitura estetiche in materiale plastico oppure in acciaio inox. La placca di finitura estetica in acciaio inox è disponibile sia lucida che spazzolata. Andiamo a vedere quindi il collettore con intercettazioni generali. Una particolarità tecnica di questo prodotto consiste nel fatto di avere la predisposizione per l'attacco del circuito di ricirco già sul corpo, che vediamo appunto qua. L'installazione della versione sottotraccia viene conclusa attraverso questa placca, con manopola scomparsa, manopola scomparsa che sono push to open, mentre invece l'installazione della versione ispezionabile viene conclusa attraverso le stesse placche di finitura estetica che abbiamo visto in precedenza. Vediamo quindi l'ultimo prodotto, ovvero il gruppo con intercettazioni generali, sia in versione sottotraccia che ispezionabile. Anche qua la finitura viene effettuata con le manopole push to open, oppure attraverso una placca di copertura estetica. Grazie per l'attenzione e per ulteriori informazioni,